Il tema, come dice Foti, è ma noi questa misura l'abbiamo immaginata che parta e vita natural durante ti mantenga oppure se era immaginata per trovare lavoro facciamo oggi il punto e diciamo non ha funzionato. Buongiorno a tutti, buongiorno ai suoi ospiti. Intanto io vorrei dire al Presidente Foti che quella piazza, il messaggio che arriva da quella piazza non deriva da una campagna elettorale ma deriva da un'esperienza di vita reale. Noi abbiamo sentito un percettore di reddito che dice che prima del reddito guadagnava 600 euro lavorando in un supermercato. Ora distinguiamo e non confondiamo la causa con l'effetto. Il reddito di cittadinanza, cioè una misura, la prima vera, reale misura che questo Paese abbia mai visto di contrasto alla povertà è stato istituito perché c'era una povertà dilagante dovuta al fatto che in Italia, soprattutto in alcune regioni d'Italia, il lavoro manca. Ora io credo che il disegno di questo governo sia un disegno molto chiaro, che un disegno, una ricetta, che ieri un paper di Banca Italia, Banca Italia quindi non un partito politico, ci dice che non ha funzionato, cioè quello della liberalizzazione dei contratti di lavoro che ha avuto l'effetto di schiacciare verso il basso i salari e di impoverire ancora di più il ceto medio. Quelle persone fanno parte del ceto medio, non sono i poveri di ieri, sono il ceto medio di ieri che oggi stanno manifestando perché senza il reddito di cittadinanza, perdendo il sostegno al reddito, non sanno come vivere, non sanno come dar da mangiare alla propria famiglia. Allora io credo che un governo dovrebbe interrogarsi di tanto più che oggi, ieri, anzi, il rapporto annuale Svimez ci dice che sta aumentando il divario tra nord e sud, sta diminuendo ulteriormente dello 0,4% il PIL, il prodotto interno lordo del sud e che rischiamo di avere nei prossimi anni 500 mila poveri in più nelle regioni del sud. E questo non può essere spiegato dal fatto che un sud sostenuto dall'assistenza comunque non ce la farà? Guardi, voi avete detto una cosa che è corretta. Il reddito di cittadinanza non era pensato vita natural durante, ma era pensato accompagnato da una riforma del mercato del lavoro attraverso il sostentamento dei centri per l'impiego che in Italia non hanno mai funzionato e non ce lo dice certo il reddito di cittadinanza che i centri per l'impiego non funzionano. Ora io sono molto felice che Foti abbia riconosciuto il fatto che già la legge istitutiva del reddito consentiva all'impresa che assume il reddito di ottenere uno sgravio che loro hanno aumentato con la legge di bilancio e su questo noi siamo d'accordo. Anzi, noi siamo disposti a sederci a un tavolo per migliorare il reddito di cittadinanza perché noi non abbiamo mai detto che quella norma era perfetta. però da qui a dire io lo cancello dal 2024 totalmente io credo che si troveranno di fronte a un grande problema perché si renderanno conto di quanto sia importante il reddito di cittadinanza in questo paese.